Benvenuti alla Rassegna Stampa di venerdì 17 aprile 2020, siamo in diretta, sono le 7.53, buongiorno, ben ritrovati all'Occhio ai giornali. Iniziamo dal Santo del Giorno, vediamolo subito, oggi la Chiesa ricorda San Simeone, il sole è sorto alle 6.20, tramonterà a 19.55, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con temperature in aumento per la giornata di oggi. Domani invece ancora nuvole, ma con addensamenti più consistenti, soprattutto il pomeriggio, ancora temperature in aumento. Domenica 19 avremo cielo sereno parzialmente nuvoloso, con temperature in aumento soprattutto quelle della notte. Un peggioramento forse nei primi giorni della prossima settimana. Allora calano i contagi, calano i contagi, lo abbiamo visto ieri guardando i numeri, i numeri, parlo delle Marche ovviamente, vedendo i numeri a disposizione del Gores, ci sono stati soltanto 74 contagi su mille passatamponi che sono stati analizzati, quindi queste sono le buone notizie della mattina, ma poi vedremo, ci sono ancora purtroppo troppe persone che muoiono. Diteci perché sono morti così, invece sono le parole dei parenti, degli anziani, che si sono spenti nel silenzio all'interno delle case di riposo, dove ci sono state, così come vengono definite giornalisticamente, delle stragi vere e proprie. Se hanno portato il virus dall'esterno, dicono questi parenti, qualcuno deve pagare. E tre procure continuano le indagini. E poi la stagione estiva, questa incognita, l'accelerata dell'assessore Pieroni in spiaggia, dice da giugno, lavoriamo al decreto sulla riappertura delle spiagge entro i primi di giugno, così l'assessore regionale, ma troppi medici tra i contagiati, c'è anche un esposto. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico edizione di Pesaro, dove tra l'altro c'è spazio anche per ricordare appunto che cala l'epidemia con un record di test covid positivo soltanto 1 su 14. Questo invece è il resto del Carlino, la pagina che apre con la fotonotizia della Ferretti Group, che riapre il suo stabilimento. Rientreranno in azienda una sessantina di dipendenti del marchio Pershing, a Mondolfo, con le migliori tutele possibili, dice l'amministratore delegato della multinazionale della Nautica, Alberto Galassi. Però l'apertura è per i decessi all'interno del Consorzio di Santa Colomba, questa strage nelle case di riposo, anche nel Pesarese. Perché così tanti morti? Non lo so, dice il Presidente. Appunto, adottate tutte le misure di sicurezza. Poi la pagina degli addi, addio a Bonazzelli, fisico da sportivo sconfitto dal virus, era un funzionario di Equitalia. Poi Ballarini, il pittore fuori dal coro, scomparso a 93 anni. Il record dei test, dicevamo, positivo solo 1 su 14. È stato esaminato un lotto di 1.107 tamponi, il più grande dall'inizio dell'emergenza. Appena 79 casi di infezioni. I contagiati salgono a 5.582, ma il totale dei dimessi e dei guariti sfiora i 1.700. Altri 21 morti in tutto. Sono 785 nelle Marche. Ed eccola qua. Sono qui le due pagine del Corriere Adriatico di questa mattina. I nostri cari spariti nel silenzio. La strage di anziani inchieste al decollo. Oltre 100 morti negli ospizi. Le famiglie vogliono sapere cosa è successo e perché nelle strutture che dovevano proteggere i loro familiari. Il Covid-19 è dilagato. Il NAS dei Carabinieri è già in moto. E tra le varie persone che non ci sono più, i vari anziani che sono deceduti, come potete vedere, l'abbiamo fatta vedere anche ieri, la seconda fotografia riguarda la mamma del sindaco di Fossombrone, Bonci, che era ospite alla Casa Protetta Castellani. Una cosa non accetto, non vedere mia madre e farla morire da sola, dice appunto il sindaco Gabriele Bonci. E poi altre voci che arrivano da Macerata, per esempio dalla Casa di Riposo Beata Angelica di Cingoli. Se un virus esterno ha ucciso la mamma qualcuno pagherà. Oppure da Recanati, in provincia di Macerata, dalla Residenza Sanitaria Assistita, dovevano vietare le visite e i rientri. Ora scrivo ai PM. E poi ancora dalla Residenza Protetta, Mordini di Castelfidardo, in provincia di Ancona, infermieri contagiati e le cucine chiuse. Ma nessuno parlava. Queste, scusate, le due pagine del Corriere Adriatico. Abbiamo combattuto ebola, ma questo Covid è terribile. Parla il team di Medici Senza Frontieri che aiuta appunto le case di riposo ad arginare il contagio. Hanno già lavorato in missioni umanitarie nei focolai di virus spaventosi come l'ebola, appunto, o combattuto epidemie su vasta scala di morbillo e colere in Africa. Eppure parlano di questa epidemia come di un'emergenza senza precedenti. Quindi, specie quando il Covid-19 si insinua in comunità di anziani già malati, che non sono veri ospedali, ma ricoveri con spazi per stare insieme davanti alla TV, alla mensa, agli operatori che devono reinventarsi il lavoro, magari con le mascherine e i camici che oggi ci sono e domani chissà. Intanto la notizia che arriva oggi, intorno alle 2 del pomeriggio, Bertolaso a Civitanova per fare un sopralluogo. Nel frattempo il progetto ospedale 100 è stato portato avanti dal suo braccio destro, l'ingegnere Patrizia Arnosti. La regione ha seguito l'avanziamento dell'iter con l'architetto Nardo Goffi e quindi oggi pomeriggio, intorno alle 2 del pomeriggio, ci sarà questo sopralluogo e dunque si va avanti con l'ospedale. Poi, sempre dal Corriere, oggi c'è questa intervista, il racconto di come Antonio Colucci, 61 anni, fisioterapista dell'Asur, che opera nella sede fanese del quartiere di San Lazzaro, ha contratto il virus e adesso lotta a casa e lui dice io sono salvo per caso. È stato infettato da un assistito, in ambulatorio non c'erano mascherine, una collega era positiva, perciò mi hanno fatto il tampone, un'altra però è morta senza il test. Sotto lo chef di Apecchio in Nuova Zelanda, in clausura a 18 mila chilometri dal suo paese, lui si chiama Filippo Rossi, 34 anni di Apecchio, chef che mira alle stelle, vive una vita da un polo all'altro del mondo e adesso in cassa integrazione. La pagina degli addi, il virus si è preso anche Alessandro Severini, funzionario di Equitalia, sconfitto dal male, nonostante un fisico da sportivo allenato, tre giorni di febbre e poi il ricovero da Alcona, una persona eccezionale, disponibile e appassionato di podismo. È morto anche Giuseppe Ballarini, il pittore che amava la vita, aveva 93 anni ed era un artista fuori dal colo. Celebri le sue finestre e i ritratti di Pesaro. E addio anche al geometra Camillini, l'edilizia come vocazione, aveva 76 anni ed era molto conosciuto e stimato, una vita spesa per il lavoro e nel rapporto con la gente. È morto a 98 anni, sempre a Pesaro, al Mino Giommi, e per tutti era il mago della bicicletta. Il decesso è avvenuto per cause naturali e non per il Covid. È la passione ereditata dal nipote che gestisce questa officina che porta il suo nome, Cicli Almino. Da Senigallia, incinta di due gemelli, si sente male, parto da brividi, sono salvi tutti e tre, due gemellini di 32 settimane salvati dall'equipe del dottor Massaccesi che vedete nella fotografia, insieme alla loro mamma. L'emergenza si è presentata a mercoledì pomeriggio, la donna che non si aspettava di mettere alla luce i gemellini così presto, si è sentita male ed urgenza è stata portata all'ospedale di Senigallia. Personale contagiato, così a casa Roverella si riduce l'assistenza. Inutili gli appelli del Presidente del Consorzio per avere nuovi operatori. Sono 22 sanitari in isolamento e 30 quelli la cui positività è stata certificata. Addio a Giovanni Malavolta, il Cancelliere Gentile. Per tutti era il Cancelliere Gentile, sempre disponibile e attento, arguto e ironico, se ne è andato nella serata di mercoledì. Figura storica del Tribunale di Pesaro, volto noto, amato e stimato da tutti coloro che hanno frequentato il Palazzo di Giustizia e gli uffici della Cancelleria Penale. Aveva 84 anni e da tempo era ospite della Casa di Riposo padre Damiani. È morto dove era ricoverato per l'aggravarsi delle condizioni, un'altra vittima del Covid. Dunque, troppi medici ammalati, parte l'esposto in procura, un altro titolo dal Corriere, firmato da Cimo, CGL e Cisla. È chiaro che qualcosa nella fase 1 non ha funzionato, pochi dispositivi di protezione ed errori nella riorganizzazione interna dei presidi. Poi un'infermiera con una bimba disabile che vince la causa invece per il congedo. Prefetto, ci faccia riaprire la parte di negozio per i bambini. Lo chiedono i commercianti che gestiscono l'attività non solo per gli adulti. Il paso cambia la stagione e i più piccoli necessitano di vestiti e anche di calzature. Patente immunitaria, le aziende ci credono, ma in ordine sparso. Test sierologico ai dipendenti per poter riavviare le fabbriche in sicurezza. Kit per l'esame rapido a 15-20 euro. Manca però un protocollo regionale. Il risultato dà garanzie parziali. I soggetti positivi possono ancora infettare. E poi ancora dai giornali, la nave va, Ferretti, riapre lo stabilimento di Mondolfo. Protocollo di sicurezza in fabbrica firmato dai sindacati con la consulenza di un pneumologo. Sono le migliori tutele possibili, dicono, previste misure ancora più stringenti di quelle disposte dai provvedimenti di legge, ha detto l'Alberto Galassi, l'amministratore delegato. Le scadenze, se non si riapre entro la fine di aprile, il settore rischia di perdere l'80% del fatturato. Intanto parla un sindacalista, 60 dipendenti a rientro, più l'indotto di Santa e la CGL. Questo stabilimento fa ripartire anche tutte le piccole aziende che sono collegate. E l'edilizia va riaperta, avanti con i piccoli cantieri. Il consigliere regionale Biancani non si ferma ai lavori sulla battigia, ma chiede che il governo autorizzi le ristrutturazioni con cinque addetti. Si va avanti dunque, ma piano, il Presidente Ceriscioli ha firmato ieri un decreto esplicativo, al via pure la cura del verde. Dunque sì, hai lavori in spiaggia in vista dell'estate, gli agricoltori invece potranno lavorare, ma autorizzati per orti e poderi, attività portuale si può fare, i cantieri navali potranno lavorare. Ceriscioli spiega, occorre vedere, guardare il futuro. Intanto è stato prorogato di due anni il piano casa, vale fino al 2022 a Pesaro. Si potrà aumentare la cubatura di un immobile esistente del 20% oppure del 30% in caso di abbattimento. I bagnini, c'è il decreto, ok, ma restano gli intoppi. È arrivato il documento dalla Regione che consente i lavori negli stabilimenti. Giuliani, dell'Oasi con Fardigianato, dice I cantieri però devono ancora attendere la comunicazione alle prefetture tramite PEC, ci porta via ancora. Altro tempo, intanto le gelaterie non si squagliano nel senso che continuano a lavorare. Boom di consegna a domicilio, grandi affari nel fine settimana, soprattutto quello pasquale, ma la presa d'ordini sta continuando anche ora. Dunque sono state servite e sono servite da queste consegne a domicilio città e anche periferie. Per noi, dice Iuri Fazzi, non è una novità, a breve recapiteremo anche lo yogurt. Arriviamo fino a Vallefoglia, persino a Fano. E qualcuno chiede di riaprire anche le toilettature per animali, perlomeno questa è la richiesta della CNA. Come se il Covid non ci fosse, invece siamo a Dancona, la pagina del Corriere Adriatico. Porto 9, Porto 9, estate, già tutto esaurito. L'assessore Pieroni annuncia ai bagnini di voler riaprire la prima decada di giugno, da Senigallia fino al Conero. Gli operatori chiamano a casa, gli irriducibili rispondono, ci siamo, presenti. E dunque, questo per dirvi, insomma, che c'è voglia, tanta voglia, di ritornare alla vita normale. Alla vita, non dico come prima perché non sarà mai più come prima, ma perlomeno alla vita normale. Seconde case deserte, andiamo a Senigallia. Ma che saranno piene, qui la vacanza è sicura, il sindaco Mangialardi è tranquillo, i villeggianti presenti in città per tre mesi, niente tari a chi non le riapre, dovrei far pagare i miei cittadini e non se ne parla. Quindi esclusa la possibilità di non far pagare per le seconde case a chi riapre la tari, perché poi altrimenti è un costo che andrebbe accollato ai senigalliesi. E non è il caso, come dice Mangialardi. Poi Pieroni, in spiaggia, dai primi di giugno, operatori balneari al lavoro, la categoria però chiede di sbloccare le concessioni, hanno avviato lavori di ristrutturazione e sono fermi per l'emergenza Covid. A Fano, noi dializzati, anello debole della catena, chi deve sottoporsi alla terapia non può evitare di recarsi in ospedale, i sanitari fanno tutto il possibile, ma siamo spaventati, dicono. Buoni ai cittadini che sono in difficoltà, l'iniziativa di dipendenti, collaboratori e manager di Energas Spa, a sostegno di chi ha bisogno. E poi, sempre sulla pagina di Fano, ma questa volta del Corriere, è ondata di domande, buoni ma non per tutti. Tra oggi e domani la consegna degli ultimi voucher per la spesa alimentare, 340 nuove istanze, termine chiuso in anticipo di due giorni per l'insufficienza dei fondi residui pari a 52 mila euro. I 6.500 euro frutto di donazioni vengono riservati alle esigenze del mondo sanitario. Sotto le librerie, calzature, profumerie, ecco chi ha riaperto. Il Comune fornisce un primo elenco di attività autorizzate. E sempre dalla nostra segna stampa, la pagina di Fano, però questa volta andiamo su Fossombrone, tassa di rifiuti, Bonci scrive all'ata, forti riduzioni per le ditte chiuse. Il Sindaco segnala l'iniquità degli oneri per chi ora non produce scarti. E poi ci sono tre volontari che realizzano le mascherine per i cittadini. Il Comune di Terre Roveresche se ne è già procurate circa 3.000. e la battaglia al coronavirus si fa anche con la mascherina. La Lega, soprattutto la Lega, ora boccia la priorità all'efficientamento energetico. Un progetto inopportuno, dicono, oggi c'è la Commissione. Fattori dice serve per ripartire. Un maxi sequestro di beni per un miliardo, nuovi guai per l'ex re della riviera By Night, per la finanza è vicino agli ambienti dei clan campani. era già stato coinvolto in un'indagine nel 2011. Cercano di entrare in casa nella notte, scatta l'allarme e mette i ladri in fuga. Sventato un altro colpo in via Leoncavallo e Villa San Martino a Pesaro. Vaucer e donazioni, Fermignano si mobilita, raccolte per l'ospedale di Urbino e iniziative, tra cui la piattaforma online, ma anche capillari e attività di controllo del territorio. E poi, per quanto riguarda la notizia che era apparsa qualche giorno fa sul giornale Il Resto del Calino, di quel venditore di frutta che faceva tanti chilometri per portare a Valdare a Diapecchio, un piccolo paesino di cento anime, la frutta, perché non c'era un negozio o nient'altro, lui aveva raccontato di essere stato multato. C'è la replica del sindaco. Nicolucci ha scritto e ha letto un documento su Facebook. che il sindaco ha spiegato, per quanto riguarda la multa dei vigili urbani a Valdare a Diapecchio, per la vendita dei suoi prodotti, il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci ha replicato su Facebook con la lettura di un documento volto ad illustrare le motivazioni della sua ordinanza. Ha spiegato che già nella giornata di sabato il vice sindaco aveva avuto un contatto con l'operatore commerciale e che lui stesso, martedì, ha avuto un colloquio con il Lucchini. Rimane comunque nel frattempo la sanzione. Cioè la sanzione resta, quindi è vero, l'hanno multato e il verbale resta. Adesso bisogna vedere. Rosa Agosto rifesteggia un secolo di vita a Macerata Feltre, Macerata Feltre che la omaggia, e poi a Dapecchio, restando a Dapecchio, si torna a tagliare la legna. Sapete che non era stata vietata per questa emergenza, adesso però si torna a tagliare per fare il carbone. In piattaforma torna, Urbino, in piattaforma torna a decollare il commercio aspettando la ripertura dei negozi. Sul web sarà possibile acquistare buoni negli esercizi per poi utilizzarli quando si tornerà alla normalità. Una sorta di aiuto per chi da settimane non incassa, ma anche uno strumento utile. Ateneo in lutto per Sepulveda, laurea ad honorem nel 2005, il Rettore Stocchi dice scompare non solo un grande scrittore, ma un testimone universale. E poi, sempre ad Urbino, fino al 15 maggio, via Matteotti resterà chiusa alla normale circolazione e sarà utilizzabile solo per far passare i mezzi di emergenza. La via è interessata dall'anno scorso da un importante intervento per il rifacimento del manto stradale dall'incrocio con la strada statale 73 bis di Boccatrabaria fino al Pincio. E ancora dai giornali, questa volta a Urbino dal Corriere Adriatico. Celebrazione di Raffaello nel 2021, si deve recuperare quanto perso, confessacenti chiede il posticipo, perdite nel turismo per 5 milioni di euro e poi chiedono via Tari e Imu. Sotto Fermignano Online, Sanitaria e Famiglia nel cuore, il Comune ha promosso attività per chi è a casa, 250 volontari sono dispiegati per l'emergenza. Intanto da Mondolfo la fibra ottica, sbloccati i lavori team, cresce la domanda di connessione, accolta la sollecitazione del Comune di Mondolfo dopo la decisione della Gcom, la compagnia lavora per i servizi retail e ancora fermo il cantiere Open Fiber. La sindaca invece, siamo a Pergola, la sindaca ordini i tamponi nelle case di riposo, Pergola nel cuore chiede test per pazienti e operatori per fermare questa epidemia. La Lega spinge sui ristoratori, ceriscioli attivi take away, il pressing sul governatore da parte di Arrigoni e di alcuni parlamentari. Poi la fiammata di Pasqua, prezzi di frutta e verdura che sono raddoppiate all'ingrosso, a marzo in tutta Italia, l'aumento è stato 40 volte quello dell'inflazione. Nelle Marche il salto eclatante nella settimana precedente le festività. Dunque dal campo al banco di vendita per frutta e verdura, la crescita dei prezzi all'ingrosso e poi al dettaglio e all'ordine del giorno. E l'allarme lo ha lanciato la Coldiretti nazionale che torna anche sulla nuova emergenza, quella della mancazza di mano d'opera straniera a sostegno delle raccolte agricole di queste settimane. Ma la fiammata vera e propria dei prezzi c'è stata prima di Pasqua, per molti è stata fisiologica, viste le richieste, in tempi di chiusura totale forse non giustificata, ma comunque questo è un dato di fatto. Insomma, qui ci sono anche degli esempi, potete vedere in questa grafica il cavolfiore che a marzo costava 1,20 euro, nella settimana di Pasqua 2 euro, il 15 aprile 1,50 euro. Insomma, fragole a 3 euro a marzo, la settimana di Pasqua aumentata a 5,50 euro. Così la fava aumentata di 1 euro, il carciofo 0,45 centesimi al pezzo, addirittura il doppio, insomma, 0,85, ma ce ne siamo accorti davvero tutti, 3,50 a 5 euro gli asparagi. Insomma, questa è veramente una cosa... Vabbè, lasciamo stare. Berloni, ci mancava il coronavirus, operai senza stipendio da gennaio, il liquidatore non si è più visto a Pesaro, mentre i sindacati denunciano uno stallo nelle trattative. La ditta non ha soldi da anticipare per la Cassa Integrazione e le banche locali non si sono offerte per la liquidità. Un gruppo che si rifà a falce martello lamenta il disinteresse della politica locale. Cecchini, l'imprenditore della prova sierologica in TV, il titolare della ditta di componenti auto di Pesaro, che ha sottoposto i suoi dipendenti allo screening, ieri era porta a porta da Bruno Vespa. Questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale alle 20.30 e questo invece è il numero di telefono per le vostre segnalazioni. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito,